ciao a tutti ragazzi io sono maki ed eccoci qui con un nuovo episodio della legacy dunque ragazzi sono triste praticamente che è successo che volevo registrare appunto un episodio della legacy e quindi per far andare avanti un pochino le cose ho cercato di far fare qualcosa personaggio fatto passare tipo una giornata qualcosa del genere e mi è spuntata una notifica allora io ve la faccio vedere la cosa è molto triste aspettate che ho mille ecco qua ragazzi manca poco alla scomparsa di dayne tra il massimo da questi ultimi giorni ragazzi dayne sta per morire io non so quando perché ovviamente è una cosa diciamo a sorpresa quindi non ho idea del momento in cui succederà però io sto cercando di prepararmi psicologicamente perché non sono pronta peraltro mi dice qua che manca poco al compleanno di bailey perché credo sia tipo domani o dopo domani no domani oddio ragazzi oddio peraltro si sono svegliati entrambi alle due di notte non capisco perché però va bene quindi niente praticamente lei tra poco diventa anziana lui morirà a breve non si sa ancora quando e non ha neanche lui raggiunto la promozione ragazzi non siamo riusciti a farlo arrivare al livello neanche al livello 9 magari quindi per questo sono molto triste però io direi che è arrivato il momento di farlo andare in pensione perché cioè non mi sento di farlo andare al lavoro quando sappiamo che sta per morire quindi sì adesso lo farò andare in pensione ragazzi è triste come cosa oppure gli posso far fare tipo l'ultimo giorno lavorativo che è il venerdì non lo so magari aspetta puoi fare tipo chiamate di lavoro fai chiamate di lavoro sì dai magari allora gli faccio fare quest'ultimo giorno di lavoro sì sicuramente non riceverà la promozione perché è troppo indietro quando si arriva diciamo agli ultimi livelli lì è più difficile far aumentare questa barra però giusto così per salutare i suoi colleghi e per dirgli che andrà in pensione che tristezza però ragazzi cioè no non sono pronta cioè come farà bailey come farà senza il suo dain e si è svegliato jeremy allora ok sta andando a mangiare un pezzo di torta va bene tu hai finito non hai ancora finito però appena finisci guardami anzi no lo deve fare lo deve fare jordan perché lei ha comprato il gatto con la condizione che fosse ad occuparsi diciamo delle cose del gatto sono triste ragazzi però veramente guarda tu appena hai finito te ne puoi venire qua e ti prendi gli avanzi ok è fiducioso vendita conclusa dai la sua ultima vendita che tristezza ragazzi no non ce la farò mai peraltro comunque jeremy per il momento non gli faccio avere un lavoro perché sto aspettando di sapere chi sarà l'erede della legacy appena saprò chi sarà l'erede darò un lavoro a tutti eccetera eccetera allora tu hai finito quindi guardami puoi ripulire questo poi anche tu te ne vai in bagno magari tu te ne vai di sopra ok ecco jordan mi sa che non vuole pulire più le cose le cose del gatto però deve quindi sì ah peraltro si è svegliato ok cioè stiamo notando che judy è l'ultima che si sta svegliando oggi stranissima questa cosa allora peraltro tu stai benissimo quindi vieni ad occuparti qua della lettiera poi pulisci ecco qua fai svuota la ciotola e poi riempi perfetto tu ok tu stai pulendo tu stai andando in bagno ottimo e magari poi vieni qui e intanto facciamo cura del giardino vediamo se dobbiamo no mi sai che non dobbiamo evolvere nessuna pianta non ricordo se dopo superba ce ne sono altri tipo stadi credo di sì però vabbè se non devi curare nessuna pianta allora mi raccogli tutto che abbiamo bisogno di soldi quale bollette sono tipo 9000 euro cioè 9000 euro 9000 simoleon quindi ci servono assolutamente vediamo un po' Dain che sta facendo oh si è messo qui sta facendo colazione mentre lei fa il giardino ancora è tipo notte però però vabbè oggi hanno deciso di svegliarsi tutti prestissimo ok lei si sta occupando del gatto ottimo tu sei andato in bagno vediamo Jeremy che cosa puoi fare tu vediamo se c'è il bucato tipo da spostare pulisci questo ecco altrimenti evitiamo ma che non l'ha pulita ah no mi sa che Whisker sta appena fatto la pupù ok si è svegliata ma guardate la sera messa si era messa distesa qui allora devi andare assolutamente in bagno però dato che ah no Jeremy sta uscendo ok allora puoi venire qui e poi te ne vai a fare colazione hai ancora no ah peraltro anche lei deve passare di età presto ragazzi lei tra due giorni oh mio dio e tra poco praticamente quindi farò anche il sondaggio cos'è abbraccia ok lui ha preso molto in simpatia Whiskers comunque ok si è svegliato anche Kitsune si è messa qui che carina vi prego la adoro vediamo tu hai fatto ok stai ancora facendo vediamo tu hai bisogno di divertimento cos'è oh beh l'hai scelto tu io non ho fatto niente però va bene va bene va bene fate quello che volete ah ok prima lui stava abbracciando lei va bene e tu potresti ok stanno uscendo tutto l'oro ragazzi io non sto facendo niente però vabbè me la collo e oddio scusate ci sto ci sto e dunque perché in effetti siamo svegliati tutti troppo presto guarda si buona e riempimi anche questa per favore cioè e poi puoi mangiare tranquillamente forza prendi gli avanzi perfetto ma guardali che si sono messi qua di chi sono questi compiti forse sono i suoi si ah lei ha vinto il coniglio qua dell'eccellenza possiamo venderlo perché è orrendo ok loro sono diventati buoni amici va bene vediamo se l'etipo gli può chiedere qualche cosa in particolare si se ti clicchi ok perfetto potremmo raccontare una storia di fantasia dai questo cos'è oddio vuole urlare contro jordan e jordan no jordan si sente buona oggi si perché comunque secondo me jordan non è cattiva però ha un carattere un po' difficile ma perché mangiate maccheroni e formaggio alle 5 e mezza del mattino me la dovete spiegare questa cosa vabbè allora voi come state ma lui come mai si è messo qua tutto il tempo oddio ma questa pozza cos'è non mi dire che il gatto ha fatto pipì in camera di judy oh mio dio vieni qua allora fai una ramanzina sulle bevute sulla po cioè nella pozza vediamo se no non so se cioè io credo abbia fatto pipì qui mmm no non non sgridare così però facciamo una ramanzina forza cos'è oddio 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 stanchezza pericolosa no basta niente più fichi fichi per voi Oh mio Dio, gli anziani non hanno più la resistenza di una volta, al momento Dane è esausto. Ora una continua attività intensa potrebbe essere fatale. Oh no! E ovviamente insoddisfazione perché non se la sente lui. Oh mio Dio, no! Fatti un riposino qua, non lo so, un pisolino. Dane, Dane! E ovviamente anche lei perché... Santo cielo! Qua non andiamo bene. Senti, vieni a raccogliermi tutto. Oh mio Dio, ragazzi, che tristezza, non voglio che muoia. Se muore in questo episodio io veramente sclero. Allora, uh, cos'è? Scatto una foto insieme, va bene. È vero, in effetti non ho mai fatto scattare foto insieme a loro. Dai, facciamo una vera e propria foto da qui. Scatto una foto con... Dov'è? Jeremy. Bene. Tu stai benissimo. Ok. E allora poi magari ti puoi guardare i cartoni animati in attesa di andare a scuola. Ma sì. Dove sono? Qua. Canale per bambini. Ok, voi due dove siete? In camera sua, va bene. Ok, vediamo un po' come viene questa foto. Oh, che carini. Cioè, secondo me, nonostante non sembri, secondo me si somigliano un pochino loro. Lei è bellissima comunque, cioè io l'adoro. Lui, vabbè, non ne parliamo. È un bel fustacchione come al solito. Ok, perfetto. Signorina, qua mi devi pulire questa. Che succede? Oh mio Dio. Non so se succede anche a voi, però con gli animali per ora ci sono un po' di bug. Allora, tu vieni a frugare nelle tasche. Cioè, non nelle tasche. Giusto, sì, nelle tasche. Magari anche, tipo, qui. Così magari tu mi fai un po' il bucato. Oddio, lei ce l'ha piena. Qua non c'è nient'altro da... Ah, forse frugando solo in uno mi fruga in tutte. Ah, va bene. Ok, ok, allora mi sa che non c'è bisogno. E direi che possiamo fare allora il bucato. Facciamo prima questo. Vai. Tu che cos'hai? Ah, ok. Ma è di nuovo fan, ma perché? Dai, prenditi gli avanzi. Tu oggi vai al lavoro? Ah no, lei non va al lavoro oggi. Lei, secondo me, potremmo farcela a farle avere la promozione. Dobbiamo metterci sotto, però secondo me ce la possiamo fare. Cioè, ancora non è anziana, quindi la possibilità c'è. Ok. I ragazzi tra poco vanno a scuola, lei sta giocando con le bambole, super carina. Ragazzi, però io non sono pronta. Cioè, Dain, che cos'è? Leggi la bacheca, ok? Ormai ogni interazione che spunta con lui mi spaventa. Quindi praticamente, dato che adesso lui ha questa stanchezza pericolosa, dobbiamo evitare, che ne so, jogging, dobbiamo evitare cose comunque che richiedono molto sforzo. Perché non voglio rischiare di farlo morire prima del tempo. Cioè, già praticamente è arrivato, però non ci voglio pensare. Allora, aspetta. Dobbiamo mettere tutto il bucato. Fai il bucato, aggiungi alla lavatrice. Poi. Ma guardate che bravo che fa il bucato. Il mio cuore. Ah, guarda, qui posso frugare nelle tasche. Allora, vai. E poi fai così. Tu che stai facendo? Ok, tu stai mangiando di nuovo. Il gatto è qua. Mi sa che questo gatto non ha bisogno di niente. Vabbè. Non ha bisogno di niente in questo momento. Guarda, poi mi ripulisci qui. Ok, voi dovete andare a scuola. Vai. E vai. Quindi un buon lavoro. Cioè, io ho paura adesso ad uscire. Oh no, si è svegliato. Guardate, è stanchissimo. Come faccio a farlo riposare? Vabbè, si sta togliendo questa cosa. Quindi, dai. Ce la possiamo fare. Non morire. Non morire, ti prego. Niente corse. Non ti sforzare. Magari ti metti un po' nel tuo ufficio. Ti guardi un po', che ne so, le notizie su internet. Andiamo a fare internet. Scrivi sui sentimenti nel blog. Perché? Perché ha disagio, cuore. Chatta, vabbè. Dai, chatta. Ok. Vabbè, potremmo... Oh, questa è la sciosola di whiskers. Meno male che... Meno male che Jordan è andata a scuola e non se ne è accorta. Ma stai mangiando di nuovo? Ma com'è che avete fame? Vi ho fatto mangiare. Vi ho fatto mangiare. Oh. Ma ogni volta... Kitsune corre tipo... Ma si è addormentata qui fuori. È adorabile, ragazzi. È adorabile. Allora, facciamo una cosa. Tu poi ti prendi cura del giardino. E magari tu porti fuori... Ah, è vero. Deve andare al lavoro, Dane. Per l'ultimo giorno. Ho paura, ragazzi. Ho paura a farlo andare al lavoro. Vabbè, quasi sta togliendo. Quindi è un bene. Dai. Magari, guarda. Ti fai una bella doccia. Ok, dai. Fai la doccia. Così magari ti rilassi. Non lo so. Non ne ho idea. Temo il peggio, però. Voglio cercare di rimanere positiva. Dunque, tu che volevi fare? Volevi uscire... Aspetta, ma non hai fatto il bucato. Questo l'hai preso? Allora, prima fruga. E poi... Aggiunga la lavatrice. Controlliamo se l'abbiamo preso ovunque. Sì. Ah, qui non l'ha preso. Fruga. E aggiunga la lavatrice. Lei si sta occupando del giardino. Ottimo. Magari oggi, dato che anche lui andrà al lavoro, possiamo fare una cosa madre-figlio. Dai, li facciamo andare insieme da qualche parte. Allora. Lui tra poco va. Che fai? Oh mio Dio, ragazzi. No, tanto devi andare al lavoro, cuore. Mi raccomando, non morire. Non morire, Dane. Io credo in te. Guardatelo, il suo ultimo giorno di lavoro. Gli devo fare una foto appena esce di casa. Su, su, su. Ragazzi, guardatelo. Non posso farcela. Ma deve morire per forza. Che tristezza. Oh mio Dio. Dai, dato che è l'ultimo giorno, lavora sodo. Vediamo un po' che ne esce fuori. Aiuto. Aiuto. Vabbè, aspettiamo che lei finisca con il giardino e poi andiamo con Jeremy da qualche parte. Ok, tu hai messo tutto qua, quindi puoi lavare il bucato. E poi, dato che hai bisogno di divertimento, vieni qua, gioca una partita, blocco Blick. Ok. Ah, tu hai fatto. Hai bisogno di una doccia, ma non tanto, quindi non c'è bisogno. Vendiamo queste qua, che ci servono assolutamente. Volendo se ne potrebbero piantare, magari un altro tipo di queste. Non lo so. Vedremo, vedremo. Vabbè, direi che possiamo andare. Non so perché c'è delle frittelle qua, però io le venderei. Cioè, le butterei. Mi serve un lavandino. Ok. Benissimo, e andiamo. Vediamo un po'. Ci potremmo portare anche Kitsune, in effetti. Sì, ma tutti che bevete da questa pozza, ma perché? Fai una ramanzina sulla bevuta nelle pozze. Per favore. Per favore, Jeremy. Allora. E' intanto, appena finisci, viaggiamo. Ok, viaggia. Dov'è? Eccola qua. Bailey. Molti comunque scippate Nora e Jeremy. Non lo so, chissà, in futuro magari potrebbe succedere qualcosa. Lei ha una cotta per lui. Diciamo, insomma, chi è che non ha una cotta per Jeremy, ragazzi? Insomma, dobbiamo dire le cose come stanno. Allora, forza, viaggiate. Vediamo un po' dove possiamo andare. Direi, nessun ristorante, perché ogni volta sono tipo super lentissimi e il cibo ci sta tre ore ad essere portato, insomma, al tavolo. Direi, che ne so, o il parco. Vediamo, vediamo New Crest. La loro vecchia casetta. Ci sarebbe qua il parco. Questo è il bowling. L'arcade, il caffè. Quest'altro parco. Non saprei, onestamente. Volendo ci potremmo portare Kitsune al parco questo qua dei cani. Ma sì, dai, ci portiamo Kitsune. Ok, siamo qua. Portiamo Kitsune. Dov'è? Salve. Salve, non la disturbiamo. Adesso entriamo qui. Uh, potremmo farle fare questo. Dai, facciamole fare questo e magari Bailey, che ne so, può giocare un po' a scacchi. Ah, peraltro c'è lei, Meredith, la figlia di Sammy. Ok, affronta il percorso ostacoli con Kitsune. Mentre tu vieni a giocare con Meredith. Partecipa alla partita. Lei ha partorito, peraltro. Sono sbaglio gemelle. Carine come cosa. Cioè, ragazzi, io non vedo l'ora di vedere poi come sarà l'albero genealogico. Perché, dico, per ora è molto piccolo. Però, man mano che andremo avanti con le generazioni, secondo me sarà bellissimo l'albero genealogico. Non vedo l'ora. Ok, loro stanno un po' qui giocando. Ottimo. Dov'è? Eccola qua. Guardate come corre. Dai, voglio vedere un po' come fa questo percorso ad ostacoli. Quanti errori farà. Ok, qui mi sa che l'ha fatto bene. Perché lui sembra molto felice al riguardo. Ci vedo molto Judy a fargli fare questo percorso. Però, per il momento non può perché è ancora una bambina. Guardatela, brava! Ah no, ma un errore l'ha fatto. Vabbè, è la sua prima volta. Ci sta. Ah, ora deve fare questo. Vediamola mentre spunta fuori. Dov'è? Eccola! Aspetta, voglio fare una foto. Così. Che bellezza! Dai, adoro queste piccole cose. Ok, vediamo un po'. Dai, un errore soltanto per adesso ha fatto. Brava! Che bello! Ora forse le manca questo qui. Oh, mi sembra triste però. Perché? Mi sa che non le sta piacendo questo percorso ad ostacoli. Vediamo, in caso cerchiamo di capire qual è il problema. Sì, è un po' confusa, mi sa. Dai, ce la puoi fare. Dov'è? Eccola! No, mi sa che ha sbagliato. O no? E questa chi è? Fermi! Fermi tutti! Chi è questa? Chi è questa? Cioè, è la classica tattica. Oh, guarda, hai un cane. Vabbè, in questo caso una volpe. E allora ti approccio. Ma chi sei? Jasmine Williams. Facciamo una presentazione... Garbata? Dai, proviamo a fare una presentazione garbata. No, non te ne andare. Ferma, ferma, ferma. Cioè, ci hai approcciato adesso. Vediamo un po' chi sei. Dai, basta. Posso finire questo percorso? Grazie. Ok. Vediamo un po' chi è questa. Cioè, scusami. Aspetta, 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 aspetta. Voglio vedere la faccia di Jeremy. Cioè, ragazzi, conquista le donne in maniera... In maniera veramente assurda. Uh! Cos'è questa cosa? Ah, forse è perché ha fatto una presentazione garbata. Ma è carina lei! Probabilmente l'avete creata voi, perché io non me la ricordo. Sicuramente l'avrò messa nel gioco, diciamo, da uno dei vostri personaggi. Uff, impariamo a conoscere. Ah, ma guarda che amicizia! Com'è! Wow! Che bella la presentazione garbata! Oddio, si sono già abbracciati. Può essere che erano compagni di scuola. Ma sì, dai, può darsi che erano compagni di scuola. Magari, tipo, non erano molto... Che ne so, non erano amici, però si conoscevano. Avranno sicuramente avuto qualche lezione insieme. Proviamo a chiederle della carriera. Vediamo se fa qualche cosa. Oddio, perché stai parlando di queste mutande? Che hai tu? Ora chiediamo che problema c'è. Aspetta. Ma guardali! Oh mio Dio, Jeremy! Ok, una cameriera. Al bambù walk. Ottimo, buono a sapersi. Aspetta che c'è... Kitsune che ha qualcosa che non va. Comunque lei gli sta dicendo Qualche volta ci possiamo vedere, non so. C'è un concerto che sarà tipo tra qualche giorno. Magari potresti venire con me. Oh mio Dio, ragazzi! Jeremy fa conquiste! Cioè, lei non lo molla, guardate! Si è avvicinata. Ah, mi sa che stanno parlando anche con lei. No. Parla con... Potreste chiedergli qual è il problema? Bu, diamogli un dolcetto. Ma forse non sta più male. Sta ascoltando! Che carino! Guardate loro come parlano. Ottimo! Proviamo a fare un altro e impara a conoscere. Ah, conversione profonda. Dai, però è carina lei! Cioè, dai! Io approvo! Approvo. Approvo, approvo, approvo. Ah, comunque... Che nello scorso episodio c'era il dubbio se Nora fosse più piccolo, più grande di Jordan. Ho rivisto negli episodi, insomma, precedenti. Cioè, molto, molto vecchi. Jordan... Jordan. Nora è più piccola di Jordan. Di poco, comunque. Però sì. Quindi, aspetterò a farla passare d'età. A meno che non passi d'età da sola. Ok, lei allegra. Adoro! Magari le potrei dare un foxy makeover. Semplicemente metterle qualche contenuto personalizzato, niente di più. Perché dico, è bellissima. Guardatela. È meravigliosa. L'adoro. Se l'avete creata voi, ditemelo per favore, perché... Adoro. Dai, facciamo... Che ne so, esprimi ammirazione. Racconto una storia buffa. Lei, ovviamente, li vede questi qua che parlano, quindi decide di, magari, andare a fare una passeggiata con... con Kitsune, per lasciarli un po' da soli. Vabbè, allora io vado, che Kitsune mi sa che vuole fare una passeggiata. Prende, insomma, la scusa. Ma in realtà... Vuole lasciarlo da solo. Guardate qua, che conquista! È fantastica questa cosa. Peraltro gli vorrei fare avere qualche amicizia. Che ne so, potrebbe essere amico di Brent e Brunt. Dai, fai una presentazione garbata con entrambi. Che mi ispirano un sacco. Ce lo vedo lui, amico di entrambi. Dai. Conosci anche lui. E poi torniamo a parlare con lei, perché... Insomma. Facciamo un entusiasmati per le nuove serie TV. Lei chi è? Meg McAdams. Non ho idea di chi sia. Vabbè, se n'è andata. Ok, dai. Direi che... Ci possiamo fermare qui con questo episodio. Che succede? Non ho idea di cosa sia appena successo. Facciamo una cosa. Facciamo magari un... Scatta una foto. E terminiamo così l'episodio. Allora, dov'è? Ecco qua. Scatta una foto insieme. Oh, mi sa che se ne sta andando. Ah, vabbè, allora se ne sta andando. Ok, dai. Facciamo una foto anche di Jeremy che fa amicizia, perché... Adoro. Benissimo. Direi che... Che bello. Aspettate. Mi sto perdendo un attimo. Guardate qua. No. Mi rifiuto. Mi rifiuto. Vabbè. Allora, direi che ci possiamo fermare qui con questo episodio. Fatemi sapere nei commenti. Intanto, come vi sentite per la... Praticamente vicina partenza, vogliamo chiamarla così per non essere troppo drammatici. Però, insomma, sappiamo tutti di che si tratta. Insomma, di Dane. Ci lascerà presto, ragazzi. Io non sono pronta. Ditemi voi che ne pensate. Fatemi sapere anche che ne pensate di Jeremy. E di questa nuova ragazza che ha incontrato. Che, a quanto pare, è una sua compagna... Una sua vecchia compagna di scuola con cui aveva probabilmente qualche corso in comune. E non so, vedo che comunque l'amicizia... Sicuramente è stato per la presentazione garbata. Comunque l'amicizia praticamente è aumentata subito. E non so, lei è molto carina. Le darò sicuramente un foxy makeover. Però la adoro, è bellissima. E niente, quindi io vi mando un bacio enorme. Vi ricordo di mettere mi piace, di commentare, di iscrivervi al canale se questo video vi è piaciuto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!